Trasportavano quasi una tonnellata di droga prodotta in Albania a bordo di due scafi. Due fratelli di Torrecanne e frazione di Fasano sono stati arrestati dopo essere stati intercettati a largo di Monopoli durante un'operazione congiunta condotta dalla DIA e dal reparto operativo aero navale della Guardia di Finanza di Bari. Le imbarcazioni che viaggiavano di notte a velocità sostenuta sono state segnalate come sospette nell'ambito di una missione di controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Le unità del reparto operativo aero navale della Guardia di Finanza di Bari sono immediatamente intervenute riuscendo a intercettare a largo di Monopoli i due semicabinati di 7 metri. Le due imbarcazioni sono state così scortate sino al porto dove sono stati sequestrati 646 chili di marijuana e 250 di hashish provenienti dai Balcani che una volta immessi sul mercato italiano avrebbero reso all'organizzazione criminale circa 10 milioni di euro. Il carico era suddiviso in 54 involucri ripartiti ognuno in confezioni da 2, 5 e 10 chilogrammi contrassegnate da sigle di diverso colore a seconda delle zone di produzione del tipo di sostanza stupefacente nonché dei destinatari in Italia. I due fratelli fasanesi sono stati arrestati per traffico internazionale di sostanza stupefacente.